Siamo qui per presentarvi il secondo anno del corso di perfezionamento in design della comunicazione dell'Università di Ferrara. L'obiettivo del corso è quello di formare figure professionali esperte nel mondo della comunicazione a 360 gradi e per questo il corso si rivolge a persone che vogliono acquisire conoscenza nel campo della comunicazione per lavorare in redazioni di blog, di riviste online, in uffici stampa, in uffici e agenzie di comunicazione. Per questo il corso di design della comunicazione è stato costruito sia grazie alle competenze di esperti e docenti, colleghi e colleghe provenienti dal mondo accademico, sia grazie appunto alle conoscenze di esperti del mondo lavorativo e persone che lavorano nel mondo della comunicazione. Il corso si articola in più di 10 moduli, 14 per la sattezza, alcuni di natura più teorica o teoricistica come antropologia della comunicazione o comunicazione giornalistica e altri invece di natura più tecnica come basic design o copywriting attraverso cui gli studenti, gli iscritti e le iscritte al corso possono acquisire competenze anche pratiche per quanto riguarda sempre il mondo del design della comunicazione. Il corso presenta la possibilità a tutti gli studenti e le studentesse di seguire le lezioni in diretta streaming tramite piattaforma o in videoregistrazioni. Il corso si rivolge a studenti e laureandi che stanno conseguendo il titolo della trennale, si rivolge a studenti e studentesse e laureandi che stanno conseguendo il titolo della magistrale e anche a ex studenti che vogliono approfondire le loro conoscenze nel campo della comunicazione. Non è incompatibile nel momento in cui appunto i nostri iscritti, le nostre iscritte stanno seguendo altri corsi e il corso permetterà anche di portarsi, acquisire dei crediti per iscriversi poi a un corso di laurea in specialistica magistrale a cominciare dal 2021-2022. La durata del corso è di 180 ore, partirà ad aprile 2021 e finirà a luglio del 2021, sarà erogato in italiano. Il corso è stato realizzato grazie alla collaborazione con Fare Ricerca, con il Laboratorio di Studi Urbani, con il Comune di Ferrara e con l'Agenzia di Comunicazione Area 55. Per maggiori informazioni consultate il sito in descrizione e vi aspettiamo numerosi. Grazie a tutti!